Un saluto dal Tg della Mobilità dal 21 marzo, cantieri Anas sulla Pontina per la sostituzione delle barriere di spartitraffico centrale della Statale. Lo spartitraffico preesistente verrà sostituito con una barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas. I lavori interesseranno il tratto compreso tra Viale dell'Oceano Pacifico e Castel Romano e verranno realizzati con l'installazione di un cantiere mobile che procederà di solo 500 metri alla volta, con la chiusura al traffico delle corsie di sorpasso, garantendo il transito della circolazione lungo le altre corsie di marcia. Il completamento del primo stralcio dei lavori è previsto entro la fine di maggio, garantendo la piena transitabilità già per il ponte del 2 giugno. E tutto appuntamento alla prossima edizione.